La comodità degli scooter per anziani è che possono essere utilizzati solamente con una mano. Grazie a questa paletta, tirandola io vado avanti, spingendola vado in retromarcia. Abbiamo l'indicatore di batteria, il regolatore della velocità, la chiavetta di accensione e il cicalino. Fondamentali gli specchietti retrovisori. Il sedile è regolabile nella distanza dal manubrio, ha i braccioli che si possono allargare o stringere, un comodo cestino removibile e la luce per illuminare il percorso a LED. Gli scooter compatti possono essere smontati e caricate in macchina molto comodamente. Venite a trovarci nel nostro showroom per avere una consulenza sartoriale sulle vostre esigenze.